I sospetti sono in preda al panico. Fazzamoli fuori, ragazze! Abbiamo perso un uomo, portatelo via! Attaccare i sospetti! Prova questo! Abbiamo un uomo a terra! Tiro la granata! Tiro la granata incendiaria! Tiro la granata! Mio! 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 Lanci una granata a frammentazione! Attenzione! C'è gente a terra! L'ho bloccato! Paratemi! Attenzione al fuoco! Granata iniziale! Carica attiva! Toglietemeli di dosso! Lanci una granata! Indietro! L'invito a uno alla casa sequestrata! Uomo a terra! Ripeto, spiazza la carica! Attenzione! Ne ho eliminato uno! Aiutatemi! Merda! Abbiamo perso un agente! Lanci una granata a frammentazione! Ok, ne vedo uno! Sospetto eliminato! Continuate a sparare! Ecco un po' di munizioni! Carica piazzata! Carica piazzata! Anche una granata! Arriva aiuto! Piazza la carica! Ho delle medicine! Granata iniziale! facciamoli fuori ragazzi sospetto armato, uomo a terra, uomo a terra, il sospetto è a terra, vado, piazza la carica agente a terra attaccare i sospetti armati indietro, granata a frammentazione a frammentazione No, no, no. Una parte della stoltura è appena crollata! Scarica piazzata! Dattemi una mano! Mi hanno laccato! Ti ho lanciato una granata! Carica attivata! Piazzo la carica! Sospetto neutralizzato! Granata! Masi? A perfecto! Kostante! Ok, 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 ok. Mi vedo uno alle case popolari! Sei in arresto! Carica in piazzata! Carica in piazzata! Ci sparo l'altro! Sei in arresto! Sei in arresto! Non lo sai compratto! E un altro è andato! Nemico eliminato! Fermo a pezzo di me! Vedo un sospetto! Abbiamo perso un muovo! Buota a terra! Buota a terra! Ora! Ora! Ehi! Polizia! Qui! Ehi! Ii!! La cattara! Molto! Ehi! 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 Sì Nenico sotto di te Peccato Peccato Qui hanno messo una telecamera Sospetto neutralizzato Granata a frammentazione in arrivo Generale alla casa sequentrata Nenico abbattuto Continuate a sparare Sospetto avvistato Sospetto individuato Sono bloccato Non posso Abbiamo un uomo a terra L'ho bloccato Avvantegli E un altro è andato Sospetto eliminato Ne ho visto uno L'azzo granata Forza a terra Sospetto è a terra Sospetto eliminato Sospetto eliminato Lancio una granata Eliminate il cecchino Uomo a terra Ripeto Uomo a terra Facciamoli fuori ragazzi Carica piazzata Attenzione Qui c'è una telecamera Il sospetto è a terra Attenzione Qui c'è una telecamera Attenzione L'ho lanciato Dastami una mano con questo Fuoco Arriva al bordo Ragazzi Ragazzi Lancio una granata Lancio una granata Punizioni in arrivo! Indietro! Non riesco a muovermi caso! Aspetto individuato! Si ha eliminato uno! Aiutatemi! Fuoco! Sospetto armato eliminato! Attenzione! Ce n'è uno sotto di te! L'ho beccato! A terra! Nella patria! A tutti gli agenti! La struttura è parcialmente crollata! Scarica attivata! Continuate a sparare! Fermo lì! Non muoverti! Attaccare i sospetti armati! Vi servono gli sforzi! Giù le armi! Ora! Mani giù sulla testa! Nen temporal! Noting! Morta a terra! No aHamila! Levatevi qui! Struzzi di dosso! Sì! La granata! Sì, l'ho beccato! Ok, provo... Non posso muovermi! Sei in arresto! Sparro, espirri! Un bloccato! Marategli! E' finito! Facciamo bene, scuola! Attenzione al fuoco! Il vento è a terra! Giù le armi! C'è la polizia! Dimmi quello che sai! Abbiamo le informazioni, sappiamo dove sono! Ecco un kit mail! Carica pronta! No, 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 cazzo! Ok, ne vedo uno! C'è chi non ha vittato! Sospetto eliminato! Fugine di precisione! Attenzione a questa telecamera! Abbiamo perso un uomo! Portatelovi! Facciamoli fuori, ragazzi! Nemico abbattuto! Continuate a sparare! Alla casa sequestrata! A tutte le unità c'è un cecchino! Sospetto armato eliminato! Sospetto avvistato! Granata scoperta! Granata scoperta! Sospetto! E' un sospetto! un po di proiettivo 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 un po di proiettivo